Un amico in comune, il progetto attuato da 10 istituti paritari di Bassano che coinvolge 750 bimbi delle scuole d'infanzia in un piano di crescita ed educazione alla cittadinanza, coinvolgendo gli attori, forze dell'ordine, amministratori, garanti della sicurezza e della pulizia della città, una serie di appuntamenti fino a maggio in un concetto di educazione a 360 gradi. L'educazione parte dalle piccole cose, dal fatto che se vedi una carta per terra la raccogli, dal fatto che se vedi un anziano ti alzi e lasci il posto. I bambini sono entusiasti, il punto però è continuare questa educazione che facciamo nella scuola come proposta anche in famiglia, cioè il coinvolgimento delle famiglie io penso sia molto importante. Sono nostri figli quando sono a scuola ma sono innanzitutto figli dei propri genitori ed è un lavoro educativo a 360 gradi, per questo il coinvolgimento delle forze della città è importantissimo. Per terminare con l'incontro tra i piccoli dell'ultimo anno di materna è il sindaco Poletto, qui verranno consegnati gli elaborati in cui i bambini esprimono il loro concetto di città. Una responsabilità, un coinvolgimento di tutti io penso sia la strada per formare il futuro sicuro, sicuro e certo, pieno di speranza.